...del dramma che si stava consumando all'interno di queste strutture, finché non è stata negata e comunque tuttora le notizie rimangono troppo spesso parziali e non trasparenti. Ad esempio le richieste di informazioni da parte dei familiari, anche molto generiche relative eventuali casi Covid all'interno delle strutture, venivano spesso frapposte in consistenti questioni di privacy, laddove la necessità di tutela del diritto alla salute e alla sicurezza deve essere il compito primario delle RSA e delle CRA. Anche sulle reali condizioni di salute dei nostri cari in generale vi è stata molto spesso poca trasparenza. Costattiamo infatti, anche in base alle cartelle cliniche che abbiamo recuperato, che queste sono state frequentemente tacciute o minimizzate le condizioni quindi dei nostri cari fino al grave peggioramento. Infatti non ci sembra possibile che una persona fino al giorno prima non manifestasse alcun sintomo ed improvvisamente il giorno immediatamente successivo fosse quasi il fin di vita. Anche i ricoveri ospedalieri sono stati spesso nella maggior parte dei casi non attuati o negati da parte delle strutture, per cui molte persone sono decedute in struttura. all'interno di una medesima struttura abbiamo pazienti a cui è stato concesso su solitizzazione insistente dei familiari il ricovero in ospedale pur con esito fatale, anche perché arrivavano in condizioni ormai troppo gravi e spesso di incuria, come disidratati o denutriti, e pazienti deceduti nella maggior parte dei casi all'interno della struttura. Ci sono anche all'interno del nostro comitato casi di dimissione di pazienti in piena emergenza sanitaria da parte degli ospedali verso le strutture, in assenza molto probabilmente di tutte le accortezze affinché ciò potesse avvenire in completa sicurezza. Poi ancora casi di trasferimenti di pazienti covid positivi da una CRA ad un'altra CRA con contagi, senza che il personale di quest'ultimo e i familiari degli ospiti ancora all'interno della stessa struttura fossero informati di tale scelta. Questo in un momento in cui già si parlava di pressione allentata all'interno degli ospedali, infatti ci si chiese perché non trasferire tali pazienti invece che da una CRA ad un'altra negli ospedali, anche perché ci risulta che alcuni di questi pazienti trasferiti da una CRA all'altra siano deceduti all'interno della CRA in cui sono stati trasferiti. Quindi paradossalmente in alcuni casi ci troviamo davanti a ingressi in struttura negati ai familiari degli ospiti, giustamente a causa dell'emergenza sanitaria, a fronte di ingressi di pazienti e ospiti anche possibilmente covid positivi dentro queste strutture. Quindi mentre i familiari dovevano restare fuori, entravano comunque degli ospiti, spesso magari anche già positivi al covid. All'interno del comitato abbiamo familiari con entrambi i genitori deceduti, che erano ospiti nella medesima struttura, quindi persone che hanno perso tutti e due i genitori, e familiari che testimoniano di cari sopravvissuti ma in condizioni di grave incuria, quale malnutrizione, denutrizione e disidratazione per via della carenza di personale all'interno di queste strutture, tra operatori infettati e deceduti, e operatori che si sono dimessi a causa delle condizioni in cui sono stati costretti a lavorare, perché abbiamo anche testimonianze di questo tipo, gli operatori costretti a dimettersi, viste le condizioni in cui erano costretti a prestare servizio. Come obiettivi del comitato ci siamo posti alla ricerca della verità, di chiarezza e di giustizia su quanto accaduto e abbiamo deciso di utilizzare le nostre esperienze in maniera costruttiva affinché ciò che è accaduto non avvenga mai più. A tal proposito abbiamo intrapreso iniziative giudiziarie quali esposti sulle singole posizioni, indirizzate alla procura della Repubblica in cui confidiamo, affinché si faccia chiarezza su ciò che è accaduto ed iniziative mediatiche, volte a sensibilizzare l'opposizione pubblica sul tema, affinché davvero queste morti non cadano nell'oblio, questo è importante per noi, è assolutamente fondamentale. In seguito a questi esposti che abbiamo fatto e che continuiamo comunque a fare, sono stati avviati in controlli dei NAS all'interno delle strutture e di anche altri organi competenti e sono state avviate le indagini. Riteniamo fondamentale ed imprescindibile come familiari, questo è un punto su cui non transigiamo, la collaborazione e la solidarietà con gli operatori delle strutture, i quali hanno pagato a nostro avviso un prezzo troppo elevato. Poi volevo informare che il Comitato è sempre disponibile, anzi più che disponibile è pronto ad accogliere nuovi membri e nuove esperienze. Grazie. Grazie a te Francesca per la testimonianza e soprattutto per aver messo in luce quelle che sono le criticità all'interno delle strutture che derivano già da una gestione precedente inadeguata a garantire un'assistenza dignitosa per le persone ospitate nelle strutture. Io lascio subito la parola a Virna, referente dei familiari dei pazienti di Bologna. Virna ci senti? Sì, ci sono, mi sono dovuta collegare il cellulare perché non funzionava. Buongiorno, sono Virna Brindisi e sono la figlia di Giovanni che è deceduto due settimane fa per Covid come tanti anti-anziani ripoverati presso l'ACC.